buongiorno buongiorno un cavolo buongiorno allora oggi la faccio breve anche perché domenica e poi si è vero che poi chiusi in casa non è che faccia molta differenza almeno perché chiuso in casa e per chi lavora nemmeno allora la faccio veloce sta girando a tutti perché ovviamente condividiamo non ve la facciamo sapere a nessuno è così la bozza del de cretino quello che dovrebbe gestire la parte economica dell'emergenza noi abbiamo pregato come dei santi che si facesse una cosa piuttosto semplice sulla base di chi deve pagare non paga e chi non riesce più a incassare viene aiutato 200 pagine piene di come vi avevo detto purtroppo nei giorni scorsi vogliono confermare quello che avevo detto 200 pagine con soldi che vengono distribuiti principalmente agli amici agli amici non siete voi ai professionisti a tutti quelli che rimangono senza stipendi o quelli che non sanno adesso come fare perché sono chiusi in casa per decreto 500 euro ci sono l'articolo 59 è bellissimo dove viene prorogata la scadenza una scadenza viene prorogata dal 16 al 20 per i lascio vedere è inutile che che anche perché ripeto stiamo parlando delle bozze stiamo parlando veramente mi quasi mi infastidisce mettere in circolazione queste cose perché poi pieno di errori pieno di robe pieni di marchette la e la e la rai e l'ufficio e quello quell'altro le televisioni privati allora non non ci siamo non ci siamo ma soprattutto perché è una legge di bilancio mi spiace qui vi dico io da presidente commissione bilancio c'è un motivo per cui c'è una commissione bilancio perché in quel momento quando tu fai il bilancio non quando fai una cosa di emergenza allora tutti possono mettersi nella sede opportuna che è la commissione bilancio e discutere delle misure non fai la legge di bilancio per decreto e poi oltretutto scusate se veramente vogliamo fare la condivisione perché c'è l'emergenza e così questo tipo significa che molto banalmente non si sta portando avanti un'agenda politica quindi non è una questione di maggioranza opposizione o similari di programma che legittimamente uno potrebbe portare avanti anche se non si capisce quale sia perché noi almeno quando avevamo provato a fare un contratto una maggioranza che non era quella che gli elettori avevano approvato abbiamo prima pensato di fare un contratto e sottoporlo ai nostri elettori per vedere se non d'accordo qui in questo caso sappiamo benissimo che questa è una maggioranza che come unico punto programmatico era non deve non si deve votare perché sennò magari vince salvini bene con questo bellissimo punto programmatico stanno gestendo l'emergenza non si fa così mi spiace ma non si fa così gestire l'emergenza significa lascio perdere vuoi stare su quelle poltrone lì non ti tocca nessuno stai pure lì non la voglio io ma significa che sei coinvolto dall'inizio alla fine non che chiudo la porta decido io che cacchio fare poi molto banalmente sento un po' che cosa tu mi hai proposto ti ringrazio ti faccio un bel sorrisino perché vogliamo essere tutti assieme perché vogliamo essere tutti uniti e poi faccio il cacchio che voglio perché il povero alberto bagnai che veramente ringrazio ancora perché si è fatto un mazzo gigante per riuscire a portare tutte le nostre proposte che potete anche trovare sul nostro sito al tavolo delle trattative in realtà al tavolo delle trattative non c'è mai neanche entrato ci hanno ricevuto con cortesia grazie arrivederci dopodiché è chiusa la porta ed è uscito fuori quello che è uscito quando noi gli abbiamo detto come inizio proprio per evitare di pensare che le marchette che loro stanno facendo sono diverse da quelle che noi avremmo voluto fare noi abbiamo detto di non farle a nessuno abbiamo detto di fare un provvedimento brevissimo dove molto banalmente chi doveva pagare non paga perché mi sembra doveroso e faccio notare che le scadenze sono domani e ancora oggi non si è visto niente d'ufficiale tranne un cacchio di comunicato stampa e tra parentesi hanno fatto dire che chi ha pagato non rivedrà più quello che ha pagato così almeno è piuttosto chiaro per vedere a che livello a che livello siamo quindi bastava dire chi deve pagare non paga e chi non sta incassando riceve punto quello che serve serve come cifra tanto abbiamo visto che gli altri stanno impiegando cifre notevoli e non è una questione di fare un regalo a qualcuno è una questione doverosa per tutti perché altrimenti come credete che stia in piedi l'economia ma se io prendo chi non sta fatturando chi non può lavorare perché è bloccato per decreto ma cosa credete che gli si creeranno i soldi in automatico sul nel 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 conto ove andare poi dopo al supermercato a prendere anche solo i generi di sostentamento per per rimanere in casa no ma cioè siamo matti quindi sì da como almeno l'unica cosa che che si può fare che salutarci cioè buonasera da como buonasera da lodi buonasera da da pavia mentre siamo nel mezzo di 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 un'emergenza senza pari ecco uscire il decreto più miope più di scarsa lungimiranza più ignorante del fatto dell'emergenza disastrosa che noi stiamo vivendo in questo momento della storia ma abbiamo ascoltato bene abbiamo ascoltato e il risultato è stato che invece di fare questa cosa banale che vi abbiamo detto ecco che abbe ma scusate ma abbiamo anche accettato il limite il limite vostro che avete detto perché avevano per per il rinvio delle scadenze loro avevano messo come limite 400 mila euro di fatturato no per le piccole imprese ne abbiamo detto beh siete tanti europeisti portiamolo al minimo che è quello delle micro imprese per la definizione di micro impresa dell'unione europea bene questo limite è due milioni di euro l'hanno fatto per un mese quindi noi adesso avremo del rinvii non è anche un'esenzione di un mese e poi arrivano tutti cioè non c'è nessuna buono non c'è vedete le possibilità sono due o questi non hanno un centesimo perché non c'è copertura dalla banca centrale europea nonostante quello che ha detto panetta e che ha ribadito ancora oggi dice la banca centrale europea può intervenire per bloccare tutti gli spread se servono per per fare tutto quello che serve il nostro membro dentro nel nel nella bce quindi o c'è copertura dall'unione europea e quindi significa che si possono avere tutte le cifre che si vogliono necessarie alla cosa che devono essere vogliamo concordarle a livello europeo benissimo ne concordiamo sulla base della popolazione la germania mette 550 miliardi ottimo allora noi ne metteremo 300 qualcosa la francia ne metterà 420 l'olanda di meno in modo tale che tutti possono avere la stessa cifra altrimenti se invece significa che noi non abbiamo nessuna copertura e quindi il governo deve già pensare di far cassa con un provvedimento tanto è vero che non ridà i soldi a chi li ha pagati già fino adesso deve pensare a far cassa con un provvedimento che invece dovrebbe distribuirlo e beh scusate allora mi spiace che mi spiace o non mi spiace ma mi sa che vi conviene cominciare a pensare di stampare mini bot perché se no altrimenti voglio proprio vedere qua dove si va dove si va a finire e se intanto che stai pensando di stampare mini bot cosa che dovresti fare in ogni caso e che probabilmente andando avanti così finirai a fare in ogni caso caro il mio governo e si poteva fare quando invece te l'avevo detto io perché vedi se tu avessi avuto in questo momento un'unità di conto un qualcosa da poter gestire senza dover chiedere niente a nessuno senza dover chiedere alla guard e potevi darle in mano a chi non aveva reddito e poteva essere accettata da tutti e come avrebbe fatto comodo questa bella cosa e o come avrebbe fatto comoda invece avete avete preferito riderci sopra avete detto no non serve questa roba io l'avevo detto guardate che può servire anche in caso di disruption dal punto di vista se succede un imprevisto se succede qualcosa che blocca il sistema dei pagamenti non è una questione come dici tutto tanto per uscire dall'euro così cosa tipo ma una questione di sicurezza avere un altro strumento di pagamento no borghi no tu mi inganni tu in realtà vuoi uscire dall'euro benissimo intanto già che ci ragioniamo la germania è uscita da schengen tanto per tanto per dirlo perché come al solito quando è un mese che si diceva usciamo da schengen che non significa sbarra le frontiere perché poi tutti ci giocano su quei videtti del cazzo a salvini diceva prima chiudi prima apri no diceva controlla controlla e allora uscire da schengen significa semplicemente non che tu non non entri o esci in un paese tanto per dire la gran bretagna è fuori da schengen eppure non è che non si può arrivare in gran bretagna significa semplicemente controllo di chi entra e probabilmente adesso avremo meno casi ecco bene invece controllo di chi entra no vergogna tu non puoi fare oggi unilateralmente senza chiedere niente nessuno senza dire niente nessuno la germania ha chiuso le frontiere con la svizzera con la svizzera e non con il burundi ha chiuso le frontiere con la svizzera con l'austria con la francia senza chiedere niente nessuno come senza chiedere niente nessuno perché sto ancora aspettando la lettera con cui dicono che loro appoggeranno le loro aziende con 550 miliardi senza gentiloni gentiloni io sto ancora aspettando me la fai vedere se ti hanno mandato una lettera oppure se come sempre hanno fatto il cavolo che vogliono bene allora fanno il cavolo che vogliono chiudono le frontiere e così via noi invece sempre oddio le regole oddio no non possiamo dire schengen oddio no no se no siamo autor anti europeisti xenofobi e così via e gli altri fanno come al solito il cavolo che vogliono quindi facciamo una cosa proprio così e ve la dico brevemente dato che panetta ci ha detto che la banca centrale può intervenire quanto vuole sugli spread quindi dato che ormai accertato certificato c'era laccato che il mess non serve assolutamente a nulla e tra parentesi se voi andate a vedervi le registrazioni che varufakis ha messo degli eurogruppo c'è il presidente del mess stesso che dice che loro possono movimentare velocemente soltanto una ventina di miliardi sono cose che ci vogliono tempo quindi significa che non serve assolutamente a nulla quindi dato che il mess non serve a nulla perché c'è la giustamente c'è la banca centrale europea per fare quel quel mestiere facciamo una cosa lo liquidiamo eh lo liquidiamo via liquidarlo subito e riprendiamo le nostre quote sia del mess che degli altri fondi precedenti fsf e così via riprendiamo le nostre quote sono quasi 60 miliardi e vedete che con 60 miliardi tanto per dirvene una io posso dare mille euro al mese per dieci mesi eh a sei milioni di italiani suona meglio vogliamo fare il conto sei milioni di italiani sei milioni di italiani che stima approssimativa di chi in questo momento è a casa senza nessun tipo di reddito per mille euro quanto fa sei miliardi per dieci quindi per dieci mesi fa 60 miliardi quindi se noi liquidiamo i soldi che abbiamo dato al mess e ce li riprendiamo possiamo dare mille euro al mese per dieci mesi cioè fino a fine anno fino al tempo in cui eh ci si è potuti rimettere in piedi per eh per questa per questa questione per sei milioni di italiani segnatamente quelli che hanno bisogno è chiaro quindi dato che il mess non serve a niente invece di fare i decreti che ti sospendono le cose per quattro giorni o che ti danno 500 euro per un mese facciamoci ridare i soldi del mess che non serve a niente e diamo con quei soldi quindi senza nessun bisogno neanche di andare a indebitarci neanche di farci coprire semplicemente riprendendo soldi nostri nostri è che abbiamo dato al mess che non serve a niente grazie a monti e compagnia bella mille euro per dieci mesi a sei milioni di italiani che in questo momento sono costretti a stare in casa senza reddito mi sembra che vedete che questa già era una riga del del decreto si poteva fare questa riga invece di 200 pagine di decreto che vedrete che danno soldi agli amici ma non a voi grazie 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 Grazie.